Tutti col naso all'insù a Fontecchio per ammirare la performance dell'artista Sebastian Alvarez che ha illuminato il paese con la luna sospesa a una gru. Come nelle Cosmicomiche di Italo Calvino, la luna mai è stata così vicina sui tetti di Fontecchio, paese medievale, nella media valle dell'Aterno e in provincia dell'Aquila, per di più appesa ad una gru dei cantieri della ricostruzione. A realizzarla l'artista peruviano Sebastian Alvarez, uno dei protagonisti di Riabitare con l'arte, progetto di Carza con il sostegno dell'USRC che fino ad ottobre avrà come teatro diversi comuni del territorio. Ad accogliere lo spettacolo spettatori arrivati da molti posti con le note ad accompagnare della banda Armonie Sirentine, diretta da Gian Antonio Coglia. L'artista risiede ormai a Fontecchio da mesi e il suo lavoro ha coinvolto decine di persone anche per realizzare la luna, fatta con 200 barre di carta di giornale riciclato. L'idea di questo progetto viene quando stavo passando la prima notte qui a Fontecchio, dopo essere arrivato in questa stanza. Guardando dalla finestra ho notato che la luna si allineava perfettamente con la gru. Ho provato a fare delle fotografie di questo bizzarro momento, un momento bizzarro. Poi ho voluto fare anche dei disegni, è stata questa esplorazione. Ogni volta che facevo qualche passeggiata a Fontecchio cercavo sempre di riuscire a incastrare la luna con la gru. Grande attesa intanto sempre a Fontecchio per lo spettacolo previsto il 19 settembre del famoso regista e drammaturgo americano Luis Fantasia, che sta allestendo uno spettacolo su Shakespeare con attori professionisti e materiali nella splendida cornice trecentesca. Luis Fantasia ha prodotto e diretto più di 200 commedie e opere in tutto il mondo ed è attualmente associato artistico dello Shakespeare Center di Los Angeles. Si svilupperà con me che lavorerò con gli attori, faremo delle prove insieme, sceglieremo le scene da Shakespeare e poi proveremo e metteremo in scena lo spettacolo qui in questo delizioso villaggio. Prima di tutto è divertimento, quando si sentono le persone che recitano brani di Shakespeare e si vedono le loro reazioni anche se sono in traduzione e questo crea il coinvolgimento e quindi è proprio vedere il loro coinvolgimento in questa azione che crea il divertimento. Grazie.